Celebrazioni a Imperia per il giorno del ricordo in memoria dei martiri italiani delle foibet lucidati dai partigiani comunisti di Tito alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La celebrazione ha visto la deposizione di una corona dei allori in memoria dei martiri nei giardini loro dedicati davanti al Palazzo del Catasto. Sono intervenuti fra gli altri il prefetto della provincia di Imperia e il sindaco del capoluogo Claudio Scaiola. In seguito si è svolto un convegno nella sala consigliare della provincia dedicato al centenario dell'impresa di fiume di Gabriele D'Annunzio dal titolo da fiume italiana all'esodo Giuliano Dalmata.